questo è radio margherita radio margherita con te l'italia è unita oggi è il 25 aprile sono le ore 8 e 56 minuti albano è la mia vita alle 16 a barcellona si gioca di natale, zizi, pastille, greco eliminato in semifinale e con altra tesina peccato che la prima terza oggi in semifinale non è un'altra quello che è successo è successo infatti la mia testa è già di prepararmi è meglio quando possiamo tornare perché sarà madri domani abbiamo un giorno di nuovo penso cosa altrimenti non c'è un servizio come vado a dire ma quello che stiamo già facendo è anche quello che sapevamo già così, Yannick Senior capita di un torno a mezzogiorno casa, scuola, ufficio, scuola, piscina, spesa amichetto da accompagnare casa 5 giorni a settimana e senza una goccia di benzina incredibile ma l'IF l'IF everyday electric car 100% elettrica oltre 380 km di autonomia provala per 48 ore ad aprile da 189 euro al mese con il tuo voto sull'attivazione e finanziamento ai bikes e puoi cambiarla o restituirla al 149 ai 6 e 66 salvo approvazione mission finanziaria l'infosomission.it non è come una foto non è come una foto che permette un'altra rotazione che permette un'alta rotazione con grande visibilità informazioni si chiama al 339 39 35 684 339 39 35 684 la classifica delle 10 canzoni italiane più ascoltate amici e benvenuti amici e benvenuti sono stati con questo appuntamento con in Italia le 10 canzoni trascutate sulla nostra radio con Nando Russo e Benela Morosi che sono la parte tecnica e stiamo subito a posizione numero 10 amici e benvenuti Grazie per la visione!